Sono Roberto Loschi, Presidente Provinciale FIAIP Venezia, ho partecipato al corso tenuto da Francesco Bersani in questo splendido contesto di Villa Braida, devo dire che è stato un corso interessantissimo. Abbiamo passato due giorni molto intensi, abbiamo avuto la possibilità di conoscere meglio tutto quello che era il mondo del web e soprattutto abbiamo avuto degli indirizzi per poter poi applicarlo nella nostra attività quotidiana. Francesco è un formatore nato e oltretutto ha una grandissima passione per questo tipo di attività e la si rispecchia in come riesce a dare suggerimenti su quello che è la cosa di tutti i giorni, quello che a noi serve quotidianamente per poter fare del business con la nostra attività.